La civiltà etrusca raccontata attraverso il teatro e il gioco. Questo è il tema scelto a Perugia per Archeo Giocando, la manifestazione organizzata dalla WISP in nove città italiane. Settiamo Rosario Caremblu. Un tuffo nella civiltà etrusca, un tempo lontano che all'improvviso prende vita con i ragazzi di oggi, quelli della scuola media di Ponte San Giovanni, impegnati in momenti di vita quotidiana, in costume, appunto, etrusco. Una giornata apparentemente normale, fin quando arriva la notizia. I nemici sono alle nostre porte, alle porte di Perusia, dichiarazione di guerra, lotta, vittoria. Quasi mai la storia viene raccontata così, lo fanno ora nove città italiane, con la WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti e Archeo Giocando. Ogni città ha un tema, Perugia ha scelto, appunto, gli etruschi. Un lavoro che da ottobre si è concluso ora, con 80 ragazzi impegnati nel racconto della grande storia, la guerra, ma anche le piccole vicende di una giornata normale, la danza, gli sport. Abbiamo lavorato al palazzetto facendo gli sport antichi, poi siamo stati all'ipogeneo dei volumni, abbiamo vistato le tombe, studiato anche sempre gli sport antichi, proprio nei luoghi dove erano praticati. E infine siamo qua con l'ultima giornata conclusiva, dove abbiamo coniugato sia teatro che sport e altri giochi per finire divertendosi.